La presentazione sarà veloce poiché le immagini sono montate in un video, vanno da sole, per cui dovrò stringere un po' il tutto. Partiamo. Spazio Forme, Italy World. Spazio Forme è il primo store di rappresentanza del parmigiano reggiano. In collaborazione con il suo consorzio abbiamo sviluppato una strategia di posizionamento per creare un'immagine contemporanea che riflettesse l'eccellenza del marchio. Il primo obiettivo importante era quello di differenziarsi in modo netto dalla concorrenza diretta. Il secondo obiettivo era la necessità di tutelare il marchio dai processi di contraffazione tipica di alcuni mercati esteri. L'occasione per realizzare la prima fase di questo progetto si presenta con l'invito a occupare uno spazio importante all'interno di FICO, un parco tematico agroalimentare dove l'eccellenza della gastronomia italiana mostrano al pubblico tutti i processi di produzione. Qui incontriamo sostanzialmente una prima sfida, poiché la produzione del parmigiano reggiano ha un legame imprescindibile col territorio. Cioè il parmigiano reggiano si può produrre solo in cinque aree, cioè Modena, Reggio Emilia, Parma, Mantova alla destra del Po e Bologna alla sinistra del Reno. Nasce quindi la necessità di raccontare la forma del parmigiano reggiano, la sua storia e la sua complessità attraverso uno spazio esperienziale sostenuto da un percorso educativo e culturale. In uno spazio di soli 327 metri abbiamo creato un microsistema integrato di funzioni e realizzato un percorso obbligato all'interno, un percorso in cui molte delle funzioni che abbiamo inserito interagiranno tra loro. All'ingresso c'è un'accoglienza, un'area interattiva di informazione, adesso una gastronomia, al centro una scalera che è sostanzialmente il cuore di tutto il progetto. La cucina è poi uno spazio ibrido di ristorazione, un banco di espertizzazione, una sala immersiva e lo shop alla parte sinistra dello store. Il discorso è che inserire tutte queste funzioni all'interno di questo spazio è stato abbastanza difficile. Cioè dal punto di vista stilistico il lavoro è cominciato con l'integrazione e la trasformazione di elementi e simboli della tradizione, con l'intenzione poi di sviluppare un'immagine fortemente contemporanea. Cioè se noi guardiamo il design del banco di accoglienza, delle velette, della bottigliera, rienterpretano le gelosie in mattoni degli antichi caselli emiliani. In questo caso anche la scalera, che è quella che vediamo adesso, è il riferimento più importante legato alla tradizione. Di fatto è la scalera il vero simbolo. La scalera permette di avvicinarmi al cuore del prodotto, la forma intera di parmigiano. È da qui che nasce il nome spazioforme. Da questa teca, che è anche il fulcro dello store, l'abbiamo creata come un cavo che contenesse 80 gioielli, 80 forme pregiate. La teca vetrata che noi abbiamo inserito esternamente, gli specchi che abbiamo utilizzato, tutte le strutture in acciaio, le luci e tutti gli elementi che abbiamo inserito, creano un gioco di riflessioni che servono a amplificare la verticalità di questa scalera. Abbiamo anche inserito all'interno 120 forme in acciaio, quelle che vediamo in alto, utilizzando le antiche fascere donate dai caseifici. Le abbiamo trasformate in oggetti luminosi, quasi a dare enfasi, quasi a creare, di far diventare queste forme della luce. Questo è interessante. Abbiamo inserito i tablet all'interno, dove è possibile selezionare ogni singola forma e raccogliere tutte le informazioni relative ai caseifici di produzione, il peso, la tipologia, la sagionatura, il costo e tutto quello che è necessario per comprendere come il prodotto, cioè le qualità di tutto il prodotto. Adesso qua abbiamo questa distribuzione, vediamo una zona di ricezione, la scalera appunto è centrale, abbiamo una sala immersiva e un shop che è il negozio da cui termina il tutto. In questo caso noi vediamo qua lo spazio commerciale. Lo spazio commerciale è lo spazio di gastronomia, è il più importante. Anche in questo caso lo spazio ristorativo è uno spazio ibrido adesso, è uno spazio necessario ai fini della vendita e del consumo, è posto sulla parte retrostante dello store e la sala centrale può essere utilizzata in maniera differente durante l'arco di tutti gli eventi che vengono effettuati durante la giornata. Questo è lo shop. Lo shop sono 25 metri di struttura che all'interno contiene scaffalature e conduce sostanzialmente l'ultima parte del percorso, cioè conduce verso l'esterno. In sostanza questo spazio è un microsistema, è una struttura in cui ci sono una serie infinite di funzioni che interagiscono tra loro. Qual è la necessità di creare uno spazio di questo tipo? Perché non è questo un semplice negozio. Questo è un agglomerato di funzioni necessarie a far sì che un prodotto, quindi una sola forma, venga riconosciuta, venga apprezzata e si deve comprendere come questo tipo di prodotto realmente sia differente rispetto agli altri formaggi. Quello che è stato interessante in questo lavoro è stato proprio quello di riuscire a fondere, indipendentemente da quello che è il discorso legato all'estetica, è stato quello di riuscire a fondere tutti questi elementi per far sì che un prodotto possa diventare vincente. In questo caso vediamo anche una sala immersiva che è quella che alla fine funziona come aula didattica, in alcuni casi come aule a conferenze anche, un capitolo importante legato al fatto proprio del racconto telematico. Cioè questo è innanzitutto un museo virtuale ed è il primo store che verrà ripetuto, comunque verrà riproposto in diverse parti del mondo. Anche questa è una sala, cioè all'ingresso questi paioli riprendono la tradizione, però hanno un touch, cioè un multitouch che dialoga con i led wall posti sulla destra. Questa è una zona utilizzata normalmente dai bambini. In questo spazio 200 studenti al giorno passano per comprendere come funziona. Questo è il mio primo bozzetto, è quello con cui mi sono presentato dal Parmigiano Reggiano. È l'inizio. Adesso vedremo anche un video che farà un po' capire meglio come funziona questo spazio all'interno. Adesso lo vediamo. Abbiamo ancora... Questo è stato molto divertente perché mi sono presentato solo con questo. E questa è stata proprio la mia partenza. Ovviamente il documento è differente da ciò che adesso vedremo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo è il sistema che... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non era questo comunque il video e tutta la presentazione, però non è un problema. Era tutto chiarissimo. Era un altro pezzo. Grazie Morizio. Comunque andava bene. Due domande molto semplici. Mio padre era direttore di un casificio, quindi sono cresciuto nel Parmigiano tutta la vita. E la prima cosa che ho di ricordo del Parmigiano è il Parmigiano è l'odore che per quanto forte è il Parmigiano. Certo. Quando tu entri in una casera è la prima cosa che senti l'odore. Non è strano mettere le forme sotto vetro? Sì. Se sono vere poi. Sono vere. Immaginavo. Quella non è... è una scariera refrigerata. Sì, sì, sì. Il materiale che abbiamo utilizzato, cioè tipo le tavole, per esempio per appoggiare il formaggio per farlo sudare... Si fa in grana suda, per cui... Deve sudare, cioè non puoi tu alterare con nessun oggetto metallico il prodotto. Assolutamente. L'abbiamo fatta sostanzialmente... abbiamo cercato di ricreare questo tempio, perché quello è il fulcro. No, no, non c'è dubbio. Cioè la scalera è quasi un'idea, no? Cioè noi l'abbiamo prolungata con tutte queste fascere, che sono praticamente le fasce di contenimento per far sì che il formaggio prenda forma. Le abbiamo saldate e le abbiamo fatte diventare queste lampade. Cioè l'idea era creare una gioielleria. Cioè dare onore a un prodotto che di per sé è comunque un prodotto fortemente riconosciuto, forse il prodotto più riconosciuto al mondo per quanto riguarda il discorso culinario italiano. Però quello che volevo dire è che la forza secondo me di questo lavoro, di cui sono anche soddisfatto, sta proprio nel fatto di inserire in uno spazio molto piccolo tutte queste funzioni che interagiscano tra loro. Indipendetemi dal discorso estetico. Il discorso estetico è quello che io porto avanti come elemento di stile, io proprio in tutta la mia attività. Quindi il fatto di dover utilizzare sempre queste retroilluminazioni che non fanno sostanzialmente luce, questo fa parte un po' di quella che è la mia caratteristica operativa. Però è stata una bella sfida, ad oggi questo spazio è stato visitato da più di un milione e mezzo di persone. È il primo store del Parmigiano Reggiano, da qui ne seguiranno molti altri. Grazie a voi, grazie a tutti.